Servirà il ballottaggio in programma il 12 agosto per decidere chi sarà il prossimo presidente del Mali. A sfidarsi saranno l'attuale presidente Ibrahim Keita e Sumaila Sissé, leader del principale partito d'opposizione che a cinque giorni dal voto ha rilasciato dichiarazioni di fuoco, denunciando brogli a favore di Keita e chiedendo agli altri candidati di formare un ampio fronte democratico che si opponga a quanto avvenuto. 18 dei 24 candidati hanno denunciato irregolarità nel voto e richiesto l'apertura di un'inchiesta. Keita ha ottenuto il 41% circa delle preferenze, mentre Sissé si è fermato poco sotto il 18. Si tratta delle seconde elezioni democratiche che si svolgono in Mali dopo il colpo di Stato compiuto dall'esercito nel 2012 ed il successivo intervento militare francese per stabilizzare il paese. Una crisi, quella del Sahel, innescata nel 2011 dalla guerra in Libia che portò alla caduta di Gheddafi.